Pleno pesante, pioggia e insistente, è lavoro duro per chi come l'Avelino deve trovare due punti. Dias, che ha già fatto trisse con la Sampdoria prima di oggi, prova a fare poker, ma la mano, anzi la testa, non è fortunata. Meglio tentare di piede, dice Colomba, che con sinistro mirato piega da fuori Bordon. Capito come si fa? Ci riprova dunque Dias e stavolta col sinistro sfiora l'incrocio. A retra l'Avelino cominciano le sofferenze, mezz'ora di forcing e per la Sampdoria è il momento del pareggio. Errore di coccia, tocco di Lorenzo, altro tocco di Garuti ed è autogo. La squadra bianco-verde riscopre infine l'antica grinta ed Alessio appena entrato prova la solidità della traversa. Si sgancia al fine Rambo de Napoli e così lo stallone di Chiusano San Domenico porta in vantaggio la sua squadra. Corrompente nella ripresa.